Vincenzo Accardo, domenica 22 maggio alle 18.30 a piazza Santa Croce partirà una fiaccolata, una fiaccolata per non dimenticare, Giovanni Guarino. Per non dimenticare questa tragedia che è successa il 10 aprile, è più che altro il 22, una giornata particolare, il ragazzo compieva 19 anni, concordato con i genitori, abbiamo preso queste iniziative perché noi siamo molti nel sociale, abbiamo fatto tante iniziative come queste, come Marianna, come i ragazzi del Ponte Morandi, è una tragedia come questa, non potevamo girarci dall'altra parte perché una tragedia così grave di perdere un figlio perché delle persone scendono armate e ammazzano delle persone, è inaccettabile. Abbiamo invitato tutte le istituzioni di Torre del Greco, partecipa anche il sindaco, abbiamo invitato tutti i consiglieri, assessori di tutte le città. Un dolore inaccettabile? Inaccettabile che, dico a tutte le città dinanzi di Torre del Greco, facciamo diventare la piazza Santa Croce come fosse il giorno di festa del 8 dicembre dell'Immacolata, ma che sia un messaggio per tutti i giovani che questi che stiamo vedendo nelle televisioni, come ho visto su un video social, con uno con un casco in mano che picchiava una persona a mare, ho un altro ragazzo a Napoli, ho un altro cortellato con gli stendini in mano, come dicono, ho visto sui social. Troppa violenza? Tantissima. Io direi un appello anche alla Ministra della Sicurezza, Polizia, Carabinieri. Qua portano il cortello come fosse un taglio e unghie. Io dico che tutti quanti dovrebbe essere un cortello, come si dice, per me è come fosse una pistola. Perché in questo momento queste persone che vengono fermate dovrebbero essere denunciate e arrestate pure. Perché se oggi parliamo, in meno di un mese, a cortellamento, piano di Sorrento, Napoli, oh, ma dove vogliamo arrivare? Dobbiamo avere paura di far scendere i nostri figli da casa per camminare per strada, perché qualcuno domani ti guarda, mi ha guardato sotto, ha guardato la mia ragazza, o prende il cortello, o qualche figlio chiama il papà, dice non ti muovere tu, siete minorenne, vengono i figli, il casco, cominci a picchiare la persona. È inaccettabile. Noi vediamo anche più controlli, diciamo, sul territorio, ma condicente. Di denunciare è la più che altra moda di dare giustizia alla famiglia. Il dolore è tantissimo, ma tantissimo. Solo possiamo fare una casa, stare vicino ai familiari, che il 22 maggio, domenica, essere presenti a Piazza Santa Croce, per dare così un abbraccio alla famiglia e stare vicino a queste cose così tragiche non devono succedere più, che tantissimi giovani sanno che uno scende per casa non per ammazzare la persona, ma per vivere la vita, perché un ragazzo di 18 anni aveva una vita ancora avanti da vivere e stare con la famiglia. Se andate a vedere una foto sulla pagina di Giovanni, c'è un giubbotto giallo, subito vi va negli occhi, ma sapete cosa mi ha andato a me negli occhi di quella foto? Le mani. Guardate le mani. È un ragazzo che andava a lavorare alle 4 di mattina, perché sono andato a vedere anche nei posti dove stava lui, faceva il furtivendolo. Guardate le mani, sono le mani di lavoro, di un ragazzo che lavorava e voleva, per darsi e divertirsi un po' all'Una Park, per farsi un giro a Leggios, è stato ammazzato. Giustizia, giustizia, giustizia. Dovete venire tutti in Piazza Santa Croce, dare un omaggio a queste ragazze, perché Giovanni è guarino, ma è figlio di tutti i torri dei grechi e tutti gli altri paesi. Grazie a tutti.